Perché Bunuel si regiava, poi le sedi sera fermava, andava in albergo al plazzo, noi andavamo lì, di Silberman, lui raccontava tutte le storie della Spagna, prima della Repubblica, dopo, eccetera, così, stavi lì a sentire tutte queste storie, anche se non sapevi di chi parlava. E lì abbiamo fatto uno scherzo, Bunuel, perché c'era questo agente dei principali attori americani, che era lì, c'era fatto dare una fotografia, non so, il mio passaporto, qualcosa del genere, andò da Bunuel e gli disse, guarda che qui c'è uno che in America sta venendo su, lo possiamo prendere per quattro soldi, è veramente bravo, bellissimo, eccetera, e gli dà la mia foto. Bunuel guarda in quel momento, si mette a ridere, perché dice, ma è lui! Questo per dirti, insomma, era un clima così, anche abbastanza rilassato, insomma. Quel film l'hai fatto in anteprima mondiale, tu, a Romano, no? Sì, a marzo, sì, a marzo. Sì, a marzo, sì, a marzo, sì, a marzo, sì, a marzo. Sì, a marzo.